È proprio il caso di dirlo. Sulla questione buche delle strade, lo Stato ha fatto un vero buco nell'acqua. La denuncia questa volta è lanciata dal vicepresidente della comunità montana Alta Valtellina a Remo Galli, niente meno che vice sindaco di Livigno, la principale località turistica della provincia. L'amministratore ha preso carta e penna e ha scritto direttamente al ministro dei trasporti Graziano D'Arrio. Il vicepresidente dell'ente Montano, senza agili di parole, punta dritto alla questione. Sono necessarie risorse per permettere all'ANAS di poter eseguire il rifacimento del manto stradale della statale 301 del Foscagno, completamente dissestato. Lo sfogo dell'amministratore locale arriva, dice, dopo anni di promesse mai mantenute. Le condizioni della strada sono ormai insostenibili, si legge nella nota. L'asfalto presenta una buca unica ed ha un'immagine della nostra valle da terzo mondo. Una situazione insostenibile, specialmente per due località turistiche rinomate in tutto il mondo come Bormio e Livigno, collegate proprio da questa rete viaria. Un'accusa dai toni pesantissimi, quella di Galli, lanciata con il chiaro intento di ricevere sì una risposta, ma soprattutto una soluzione in tempi brevi. E poi l'affondo. Ormai il limite della decenza è stato superato, scrive Galli. L'amministratore credo di avere l'obbligo di richiedere a tutte le autorità che prendano atto di questa gravissima situazione e intervengono immediatamente, affinché ANAS sia messa in grado, già in questi mesi primaverili, di eseguire la risfaltatura della strada. Grazie. Grazie. Grazie.